Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. In direzione opposta ha segnalato traffico a rilento tra Calenzano e Sasso Marconi. In Fipilì coda in uscita la stassigna per i mezzi provenienti da Firenze. Ralentamenti Tascandici e il viadotto all'Indiano in direzione Firenze. Sulla strada è stata l'Aurelia per il ripristino della pavimentazione. Temporaneamente chiuso lo svincolo La California-Cecina-Sud in entrata e in uscita in direzione Grosseto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!